Amici sportivi, buon pomeriggio dal Tempio, questo è lo spettacolo di colori, il bianco e l'azzurro, i colori della nostra, i colori della nostra amata Acragas. Oggi confronto inedito ma sicuramente affascinante contro gli Amaranto dell'Arezzo per questa sfida che vale la quarta fase dei playoff, chi vince direttamente alle semifinali. E' tutto pronto, fischio dell'arbitro, partito in questo istante. Cartieri manovra un buon pallone, ha la buona gestione del possesso palla con Bascaroli che tira dalla lunga distanza, palla alta. Chiavaro, la battuta sul corpo dei difensori, ancora Acragas comunque con un tocco in avanti di De Rossi all'interno del rigore. Mucchianaria, ancora un tiro e la parata in calcio d'angolo di Scarpelli. Dalla bandierina sul secondo palo, c'è la parata e la palla che balla lì davanti. E' ancora un tentativo, un palo dell'Acragas al settimo minuto. Parisi si libera legantemente dal suo diretto avversario, il taglio centrale su Pellegrino che apre su Arena. Arena, Arena ancora, Arena, attenzione, su De Rossi, lo apre su Saraniti, ancora su De Rossi, la palla è lì e la rete! Arena, 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 Arena! Goool! Il genio! Arena! Confio la rete al sedicesimo, Acragas 1, Arezzo al 0! Il fisco dell'arbitro. Tutto è pronto? Alta! Arezzo in avanti, attenzione alle torri, si formano i blocchi all'indelare di rigore, palla sul primo palo, attenzione! C'è un traversone pericolosissimo! Poi è Bricca che tenta il tiro, la parata in due tempi di Valenti, di Santo, di Santo ancora, carica il tiro! La parata di Valenti, ancora Arezzo pericoloso! Esce Aga Bomberchiavaro al suo posto, è pronto a starita! Secondo palo, attenzione! E Saussi ha colpito la palla di testa, ha trovato il tempo, ha trovato la sfera, ma ha sbagliato la mira! Ancora una traiettoria con l'Acragas che viene avanti, attenzione c'è questa opportunità con il portiere Scarpelli che riesce a trovare il pallone! Si riparte dall'1-0, il primo possesso è Amaranto! Arezzo in avanti, attenzione a limitare il rigore, attenzione alla battuta! La palla viene deviata da Valenti! Palla sul secondo palo, esce Valenti che va a recuperare la palla! Arena, in aria il tentativo! Di poco al lato! Arena, palla in mezzo! C'è il colpo di testa, la parata del portiere e ancora il tentativo! Ha di fronte a sé il numero 17, Carminucci! Arena, il gioco di gambe, ancora Arena! Mantiene il possesso Arena! Cerca Arena! L'1-2 rientra in aria, Arena mette in mezzo e poi sbaglia! Clamorosamente! Si continua a giocare, c'è Pellegrino che apre su Savanarola, all'interno della rigore, Savanarola e tiro! La palla al lato! Calcio l'angolo! Palla sul secondo palo! C'è una mischia furibonda! Non ci arriva nessuno! C'è Parisi! Parisi ancora! Il tiro di Parisi è alto! Attenzione! C'è un tentativo! La parata di Valenti, sicura, centrale! Battute conclusive di questo epico incontro tra Agra, Cassi e Rezzo! Savanarola vuole l'angolo! È finita! È finita! Semifinale! Siamo in semifinale! Si giocherà ancora allo Stadio Esseneto domenica! 1-0! La rete di Arena vale la semifinale, amici! Che partita! Al Tempio! Domenica 1 giugno al Tempio per la semifinale, ore 16! Curta di correre il giro! Questa è entrata una pica aperta È un tempo ancora! Si qui danno offa 1000 nemateli! Che partita!